80.000 metri quadri, 7 padiglioni e tanto spazio per giocare. Siamo a Seridò, a Montichieri di Brescia e stiamo per entrare in fiera. Ci li hai tu i biglietti? Ci li hai tu i biglietti? Ti piace fatta da farfalla, truccata da farfalla? Eh? Ci li hai tu i biglietti? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.